Un mercatino dell'usato a scopo benefico è stato organizzato dall'Unitalsi di Bari, allestito in piazza del Ferrarese. I volontari dell'associazione propongono oggetti, libri e tante altre cose in vendita a prezzi modici. Lo scopo è raccogliere fondi per consentire a chi non ha la possibilità economica di farlo, di poter recarsi in pellegrinaggio all'URD. L'Unitalsi è un'organizzazione ecclesiale composta esclusivamente da volontari che a proprie spese assistono e accompagnano persone in difficoltà, malati e disabili, nei pellegrinaggi all'URD e nei vari santuari internazionali.